Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di trovare la campanella ragazzi di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo oggi risolveremo alcuni errori su FIFA 23 riguardo al crash, freeze, a fix dei bug e risolveremo tutto tutto quello che ci serve sta proprio nel percorso file di FIFA 23 e poi faremo un'altra procedura attraverso Windows Update e attraverso aggiornamenti della scheda video quindi ragazzi buona visione quindi ragazzi quello che bisogna fare è andare su FIFA 23 eseguire sempre FIFA 23 come amministratore e unoltre sotto questa parte dell'amministratore andiamo su Open File Location che sarebbe apri percorso file andiamo su Installer andiamo nella cartella WC mi raccomando nella cartella WC poi andiamo nella cartella perché qui dobbiamo installare alcune applicazioni quindi WC questo qua Redist e scaricare, cioè installare quello che corrisponde al tuo sistema operativo per 64 che sarebbe 64 bit per 86 è 32 bit quindi tu ci clicchi sopra installa oppure ripara e devi fare questa procedura anche con un'altra cartella un attimo che chiudo tutto torniamo un attimo indietro e facciamo anche sul WC 2013 la stessa cosa anche con questo ripara oppure installa e chiudiamo tutto dopo quel passaggio andiamo su gestioni e dispositivi vediamo se la nostra scheda video deve fare qualche aggiornamento quindi aggiorna driver circa automaticamente i driver circa driver aggiornati in Windows Update andate in Windows Update e vedete se dovete fare qualche aggiornamento chiudete tutto fate anche disinstallare il dispositivo non conviene disabilita il dispositivo riabilitate e riavviate il pc semplice quindi ragazzi una volta fatto andiamo su FIFA 23 fate riparazione e attendiamo e vediamo com'è andata quindi io spero tanto che questo video vi è stato utilissimo vi consiglio di lasciare un like iscrivervi al canale ragazzi e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao